Dunque allora diamo il benvenuto a Antinisca Di Marco che è professoressa all'Università dell'Aquila, è stata anche mia studentessa diciamo troppi decenni fa quando stavo all'Università dell'Aquila e adesso è una collega, una professoressa di informatica al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Matematica dell'Università dell'Aquila. Quindi diciamo è una professionista dell'informatica universitaria e devo dire meno male perché appunto come affrontiamo in questa serie di webinar purtroppo nel settore dell'informatica in generale del digitale ci sono poche donne, poche ragazze e lei contribuisce a riequilibrare la media che in realtà continua a rimanere troppo bassa. Ha avuto, ha svolto diversi incarichi all'Università dell'Aquila, presidente del corso di studio in Applied Data Science, sia di scienze, sia come dire, quello triennale che quello magistrale, è direttore del nodo dell'Università dell'Aquila, del laboratorio InfoLife che si occupa di bioinformatica e biologia dei sistemi, partecipa a diversi progetti di ricerca sia italiani che europei che internazionali, ha il dottorato di ricerca in informatica, scrive pubblicazioni internazionali, libri, insomma la solita professione, chiamiamolo così, solita professione del professore o della professoressa di informatica e soprattutto è la coordinatrice di questa bellissima iniziativa che si chiama PINCAMP, le ragazze che contano, che è un campus che si svolge all'Università dell'Aquila a giugno, che è mirato proprio a invogliare e avviare le ragazze a scegliere informatica come professione, come campo di studi universitari, non necessariamente come professione ma come campo di studi universitari, quindi è un'idea molto bella perché aiuta ad avvicinare le ragazze a toccare con mano che cosa può fare il digitale in pratica e questo PINCAMP di cui poi lei farà qualche accenno nella parte finale del suo intervento è il campus al quale parteciperanno le vincitrici della nostra iniziativa sponsorizzata dall'ENI, che appunto prevede la partecipazione delle ragazze a questo concorso inviando un video sulla loro idea di digitale al femminile, come voi ragazze vi vedete in una professione digitale del futuro dal punto di vista femminile e le vincitrici parteciperanno gratuitamente a questo campus, che è una bellissima esperienza perché c'è una prima settimana di lezioni a distanza e poi una prima settimana diciamo proprio in presenza, come se fosse un campeggio che contribuisce a creare uno spirito anche di fratellanza o dovrei dire di sorellanza, diciamo in questo caso, visto che sono tutte ragazze. E va bene, a questo punto Antiniska ti cedo la parola, io mi spengo il mio video così rimani solo tu sulla scena e però rimango qua per qualunque venienza. Grazie, grazie della presentazione. Inserisco la mia, delle slide, ok? Diciamo che partiamo con un po' di storia, vi racconto un po' di me per andare poi a dirvi un po' cosa faccio oggi. Beh, la mia storia è una storia di una ragazza molto semplice perché vengo da una famiglia semplice, semplice inteso, come dire, i miei genitori non hanno studiato, non hanno la laurea, però mi hanno insegnato la responsabilità e essere dedita al lavoro. Ad un lavoro di squadra, questa è una cosa molto importante nell'informatica. Quando ero della vostra età, anche più piccolina, non mi era molto chiaro cosa volessi fare da grande. Mi piacevano tantissime materie, la cosa di cui, diciamo, quando mi proiettavo nel futuro mi vedevo in un laboratorio, ok? Quindi in un laboratorio che non ben identificato e siccome mi piacevano tante materie, spaziavo tra la biologia, la chimica, la fisica, la matematica e ovviamente l'informatica perché io ho seguito un istituto tecnico con indirizzo informatico. Quando sono arrivata proprio a scegliere il corso di studi, ancora le idee non erano affatto chiare, allora ho pensato qual è quella disciplina che mi può dare gli strumenti per poi applicarli in più contesti. In contesti diversi, proprio che spaziavano dalle scienze della vita alle scienze, noi le chiamiamo hard, cioè le scienze un po' più dure che sono appunto la matematica, la tecnologia. Bene, data questa riflessione, perché io volevo uno strumento che mi permettesse poi nel momento in cui chiarissi la mia mente, di poter migrare verso quel dominio di conoscenza senza perdere tutto il know-how che avevo acquisito. Quindi in quel frangente la scelta ricadeva su due materie, perché sono fondazionali dal mio punto di vista. La materia fondazionale per eccellenza nella scienza è la matematica e l'altra è l'informatica. L'informatica oggi noi la percepiamo come tecnologia, ICT, molto complessa, ma di fatto l'informatica nasce come una matematica applicata. Infatti i primi informatici e le prime informatiche erano dei matematici. Tra queste due scelte ho scelto l'informatica perché? Perché avevo uno strumento, appunto il computer, con cui potevo rappresentare, modellare la realtà, un problema e programmarne la soluzione. Da qui nasce la mia scelta verso l'informatica. Non ero, come dire, completamente certa all'inizio. Ho fatto un percorso di ragionamento. Mi sono iscritta all'Aquila. L'Aquila non è la mia città di origine. Ho preferito una città piccolina perché appunto era la prima volta che uscivo di casa in modo, non per fare una gita, ma per vivere fuori casa e in un contesto piccolo mi sentivo più, come posso dire, più tranquilla e che potessi gestire le varie situazioni. Le difficoltà nel seguire il corso di studi, pur avendo fatto informatica alle superiori, sono state varie, moltissime. Finché ad un anno e mezzo avevo anche pensato ma forse non è la mia strada e stavo per rinunciare. Ma ho insistito, questo per dirvi cosa? Ho insistito, sono stata determinata e non si può abbandonare una strada solo alla prima difficoltà. Questo è per dirvi che qualsiasi strada voi intraprendiate, prima o poi l'ostacolo vi verrà posto davanti. Beh, siate determinate, cercate di superarlo, non vi abbattete, andate avanti. Durante il corso di studi all'epoca avevamo un ordinamento che era di cinque anni, si chiamava appunto corso di studi in informatica. All'interno di questi cinque anni, all'ultimo anno, proprio quasi vicino alla tesi, ho fatto l'esperienza dell'Erasmus. L'Erasmus, penso che lo sappiate, però ve lo dico, è un programma europeo che permette attraverso delle convenzioni tra istituti di poter spendere un periodo all'estero e di frequentare gli insegnamenti, i corsi, dare esami e nel mio caso anche di fare la tesi. Quindi ho speso dieci mesi presso l'University College London, di Londra, appunto per completare i miei esami, gli ultimi due, e sviluppare una tesi all'interno di un ambiente internazionale di ricerca. Prima di questa esperienza, io non avevo, come dire, per me la carriera accademica era qualcosa di astratto, anzi non la contemplavo proprio come possibilità. invece l'esposizione verso un ambiente ci fa capire che innanzitutto ci fa conoscere dei contesti e poi ci fa capire se quella direzione può essere interessante nelle nostre corde, quindi se possiamo andare avanti per quella strada. Perché vi dico questo? Perché è importante sperimentare. Oggi ne avete tantissime opportunità. La sperimentazione può essere fatta anche attraverso internet. Trovate tantissimo contenuto attraverso, appunto, i siti e internet. Quindi non vi limitate, non vi limitate a ciò che voi conoscete, ma cercate di andare oltre. Avete una curiosità? Andate e approfondite questa curiosità. È molto importante. Quindi, esperienza a Londra, lì mi hanno offerto di fare il dottorato. Io però non avrei voluto tanto continuare la mia esperienza lì, ma per una situazione familiare ho preferito tornare. E ho fatto il concorso all'Aquila, ho vinto una posizione all'interno del programma di dottorato di ricerca e quello che ho fatto è sviluppare, concentrarmi su una tematica che a me era piaciuta parecchio. Una tematica che univa non solo la mia esperienza come informatico, ma aveva anche alla base una formazione matematica. Infatti inizio il mio dottorato nell'ambito dell'ingegneria del software nell'analizzare quella che noi chiamiamo le prestazioni del software. Quindi usare dei modelli stocastici per poter predire i tempi di risposta di un servizio, l'utilizzazione delle risorse e così via. E quindi piano piano mi sono spostata verso l'ingegneria della qualità del software, dove per qualità del software intendiamo tutto ciò che qualifica un tool. Durante il mio percorso accademico ho sempre dato un... come dire, mi sono ricordata di quando ero piccola, cioè che io volevo applicare quello che facevo in altri ambiti. Quindi ho sempre guardato con un occhio non solo all'informatica pura, ma cercavo di applicarlo su altre discipline. Quindi dare... attivarmi su quello che oggi è chiamata la multidisciplinarità. Guardate bene, oggi si parla tanto di multidisciplinarità. Io questa cosa l'ho iniziata a professare 15-20 anni fa, quando ancora certe cose non erano proprio ben viste. Quindi mi sposto dalla qualità del software alla bioinformatica. La bioinformatica è l'informatica applicata alla biologia. Da qui nasce la mia... come direi... la mia candidatura, il mio ruolo come direttrice del nodo aquilano, dell'Aquila, all'interno del laboratorio Cini di InfoLife. e in particolare quello che noi studiamo, il mio gruppo di ricerca-studia, è le sequenze genetiche umane, quindi noi ci concentriamo sull'umano, al fine di migliorare la medicina. Quindi facciamo tutto uno studio sui genomi, sulle mutazioni, al fine di migliorare le cure, migliorare e velocizzare le diagnosi, e applicare quindi l'informatica e tutta quella modellazione che io ho studiato in un altro contesto, in ambito medico e biologico. Dopo la bioinformatica, la bioinformatica di fatto è una data science applicata alle scienze della vita. Quindi il passo successivo è stato, vabbè, applichiamo l'informatica e la data science. Per data science intendiamo lo studio del dato, la modellazione del dato e le analisi. Le analisi possono essere fatte attraverso modelli matematici, attraverso modelli stocastici, ma anche attraverso il machine learning. Quindi per data science intendo tutte queste metodologie che possono essere applicate in determinati ambiti. L'ambito, i due ambiti a cui io mi sono concentrata sono ovviamente la salute, perché porto dietro il background di bioinformatica, e ai processi, e dopo il terremoto del 2009, ai processi di pianificazione pre-disastro, gestione e ricostruzione post-disastro. Cioè l'applicazione non solo dei modelli, ma dell'informatica, al fine di migliorare quei processi decisionali che impattano sulla vita di ogni giorno. E quando lavoriamo su questi aspetti, spaziamo dalla salute all'economia, agli aspetti sociali, e anche alla pianificazione urbana, quindi per farvi un esempio semplice, per esempio i piani di evacuazione che devono essere predefiniti, fino alla ricostruzione. Chi sono oggi? Un po' lo ha detto già il professor Nardelli Enrico, sono una professoressa associata in informatica presso l'Ateneo dell'Aquila, dirigo il laboratorio CineInfoLife, sono co-coordinatrice di un'infrastruttura di ricerca europea molto ampia che si chiama SoBigData, e SoBigData è un'infrastruttura di ricerca che è basata sul paradigma dell'open science. Si riconosce infatti l'importanza della condivisione dei dati e della conoscenza in generale al fine di cooperare insieme usando non solo la conoscenza e i dati ma anche l'informatica al fine di migliorare processi, migliorare prodotti, migliorare servizi. In particolare all'interno di questa di questa attività di ricerca un aspetto fondamentale che stiamo trattando, siccome l'intera infrastruttura di ricerca si basa sul machine learning, quindi oggi si parla tantissimo di artificial intelligence, i concetti sono noti agli esperti sin dagli anni Sessanta, cioè le reti neurali vengono inventate dai matematici sin dagli anni Sessanta, nello scorso millennio, nemmeno secolo. Tuttavia però, perché oggi si parla tanto di intelligenza artificiale? Perché la tecnologia è così evoluta, si è così potenziata che siamo in grado di generare nuovi dati ma anche di trattarli. Per trattarli intendiamo gestire un dato, memorizzarlo, rimuovere ciò che non è opportuno mantenere perché magari il dato è corrotto e compromesso, ma anche analizzarlo. Bene, oggi esistono dei sistemi che prendono decisioni a partire dal dato, usando il machine learning, per esempio. Questa nuova tecnologia e i dati che noi siamo per far apprendere modelli di machine learning un dato fenomeno, possono essere dati che contengono in sé un concetto di pregiudizio. Allora, oggi studiamo la qualità del machine learning nel senso che vogliamo studiare l'assenza dei pregiudizi nei dati e la fairness, quindi la capacità dell'algoritmo di essere paritario, equo, nelle sue decisioni. gli altri due diciamo incarichi che ho è il responsabile dell'infrastruttura e territori aperti che è il progetto relativo al diciamo ai disastri, quindi alla gestione del dato e analisi del dato relativa ai disastri e il coordinatrice del PINCAM. Giusto per farvi ho preparato qualche slide per darvi un'idea di che cosa significa applicare la scienza dei dati e prendere le decisioni e ovviamente parliamo di scienza dei dati perché qui il dato è fondazionale ma è combinato ovviamente con l'informatica. L'idea è che noi all'interno di un territorio oggi lo rappresentiamo ne abbiamo una rappresentazione molto dettagliata attraverso quelli che sono chiamati dati GIS un esempio un esempio di dato di questo tipo geolocalizzato è quello che usiamo vediamo nei nostri navigatori ok il navigatore Google Maps o Waze o quant'altro quindi abbiamo una rappresentazione molto dettagliata del territorio e i sistemi informatici geolocalizzati permettono non solo di avere la mappa e il territorio ma anche di aggiungere degli shapefile quindi degli strati di informazione che permettono di arricchire la rappresentazione del nostro diciamo di una città o di un'area più o meno estesa a partire da questa rappresentazione e anche qui già solo la rappresentazione informatica ok si parla di multidisciplinarità perché io per analizzare il dato collezionare il dato devo parlare con l'urbanista piuttosto che con lo strutturista civile oppure devo poter parlare se parlo per esempio di aspetti epidemiologici devo parlare con i medici quindi vedete la multidisciplinarità nel caso specifico qui riporto quattro scenari due sono quattro scenari di applicazione dell'informatica due sono relativi alla pianificazione dell'evacuazione quindi la parte in alto dove a partire dalla mappa opportunamente arricchita siamo in grado con approcci per esempio di ottimizzazione combinatoria che sono approcci più matematici di identificare sulla mappa i percorsi di evacuazione più veloci che permettono di mettere in salvo le persone in caso di problema nella parte in alto qui più a destra invece parliamo di un simulatore che ha sempre l'obiettivo di parlare di piani di evacuazione ma in un aspetto ben diverso perché qui stiamo simulando non abbiamo un modello matematico un po' rigido ok poco flessibile il simulatore è uno strumento informatico molto più flessibile all'interno del quale noi possiamo non solo rappresentare tutte le informazioni che avevamo prima ma possiamo anche aggiungere nel simulatore degli eventi dinamici per esempio nel momento in cui sto evacuando un'area se è in caso di sisma potrei riprodurre la caduta delle macerie ok la caduta di pezzi di muro di crolli particolari oppure potrei modellare una cosa che non si può fare con un modello matematico potrei modellare il comportamento sociale delle persone che intendo se io sono sola mi comporto in un certo modo in caso di emergenza se sono con le mie figlie ovviamente ho un altro atteggiamento perché non voglio portare in salvo me ma voglio portare in salvo le mie figlie quindi quando io mi muovo non mi muovo in solitaria ma mi muovo con altre persone quindi vedete bene come in quest'altro caso ho bisogno di parlare con altri esperti gli esperti di sociologia di comportamenti sociali perché io voglio poter modellare nel mio sistema virtuale che realizzo con l'informatica degli scenari di pericolo differenti nella parte in basso a sinistra abbiamo invece la pianificazione della ricostruzione sempre partendo dalla mappa in questo caso la mappa è relativa ad un'area distrutta e devo ricostruirla beh allora noi vogliamo ricostruire la mappa ma a differenza di ciò che è accaduto in precedenza farlo con una certa cognizione di causa cioè dando temporalmente un ordine alla ricostruzione con un obiettivo ben preciso ossia migliorare un indice sociale che mi dica ok spendiamo questi soldi pubblici per ricostruire un'area ma la ricostruiamo portando cercando di massimizzare il benessere delle persone vi faccio un esempio di scenario quando io ricostruisco un'area e ho un ulteriore budget quindi un altro altri soldi altri finanziamenti non una volta ricostruito un per esempio l'ospedale è importante ricostruire il contorno cioè tutto lo spazio che circonda l'ospedale per migliorarne i servizi oppure se ricostruisco una scuola non può essere una cattedrale nel deserto dove l'intero quartiere è distrutto per migliorare come dire per valorizzare il finanziamento ricostruisco la scuola con tutto il quartiere associato e questo viene fatto di nuovo attraverso un modello di ottimizzazione ma la risoluzione viene fatta attraverso il reinforcement learning pensate ad un agente che si muove nei vari nodi della mappa e decide se ricostruire o meno un edificio guardando al reward cioè quanto guadagno in benessere sociale a portare avanti la ricostruzione di quell'edificio l'ultimo scenario è lo scenario del monitoraggio della qualità dell'aria durante la ricostruzione ovviamente abbiamo osservato che ci sono stati più più malattie legate di tipo respiratorio probabilmente perché nella ricostruzione abbattendo edifici pericolanti e comunque ricostruendo si sono sollevate le polveri più pericolose bene questo approccio permette di usare gli open data cioè i dati presenti in rete che possiamo usare secondo una certa licenza e dare nel tempo un grafico che permetta di dire qual è la qualità dell'aria in una particolare area anche qui qui io devo parlare con i fisici con coloro che fanno monitoraggi della qualità dell'aria e quindi questa slide serve per farvi capire che l'informatica non è una materia a sé stante ma per realizzare dei sistemi utili bisogna parlare con più esperti e quindi studiare anche aspetti che non siano necessariamente informatici oggigiorno si parla tantissimo di qui vado velocemente ok si parla tantissimo di machine learning di artificial intelligence come questi sistemi cambieranno il mondo sì per certi aspetti sì ma non ci preoccupiamo più di tanto la cosa invece di cui ci dobbiamo preoccupare è come vengono usati realmente questi approcci perché abbiamo osservato nel tempo che possono generare delle discriminazioni c'è un esempio vi riporto quello successivo che è ancora più eclatante è un esempio si chiama Compass lo potete cercare in rete ne trovate tanti in cui praticamente il machine learning viene usato per predire se un condannato ha una recitiva nei prossimi due anni beh cosa si è osservato che il sistema aveva un grande pregiudizio contro chi contro le persone non bianche cioè praticamente questo algoritmo di machine learning diceva che tutti gli uomini di colore saranno per sempre dei delinquenti mentre gli uomini bianchi le donne bianche e questo perché da dove è nato il problema il problema nasce dal fatto che se noi usiamo per 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 far apprendere ad un modello un certo fenomeno usiamo dei dati con dei pregiudizi il modello continuerà a perpetrare il pregiudizio continuerà a perpetrare la discriminazione allora in questo senso cioè in questo ambito cosa studiamo? Studiamo quello che è la fairness dei sistemi basati sul learning sul machine learning il bias che cos'è? è definito come un favoritismo sistematico o anche una discriminazione sistematica in modelli di predizione verso individui quindi verso le persone sulla base di specifiche caratteristiche sensibili queste caratteristiche sensibili sono per esempio il genere si è osservato che un algoritmo di learning che decideva se dare o meno il mutuo alle persone alle donne dava un mutuo con interessi maggiori agli uomini dava come dire assegnava dei mutui con interessi più importanti perché c'era il pregiudizio che la donna non fosse in grado di come dire soddisfare di rispettare gli impegni presi la razza il discorso di compass di prima quindi gli uomini di colore sono come dire hanno una discriminazione maggiore degli uomini bianchi la religione l'etnia sono tutte chiavi tutte variabili sensibili su cui si può avere un bias la fairness che cos'è è l'assenza di favoritismo pregiudizio discriminazione nei modelli di predizione beh noi che cosa abbiamo studiato abbiamo studiato che cos'è il gender bias all'interno del sistema accademico italiano e purtroppo abbiamo osservato che le donne fanno maggiore difficoltà nelle promozioni questa cosa viene riportata in tutte le statistiche però noi l'abbiamo studiata un po' più approfonditamente abbiamo ancora non riusciamo a come dire a mettere in luce le motivazioni le sappiamo ma non le possiamo ancora non riusciamo a farle emergere in modo oggettivo scientifico quindi cosa abbiamo sviluppato abbiamo sviluppato un approccio per poter rimuovere questo pregiudizio e cercare di essere più equi possibili cioè di indurre nel modello di predizione un'equità maggiore ok allora perché vi ho raccontato quello che ho fatto perché tipicamente l'informatica viene presentata come una materia noiosa sterile dove si sta sempre davanti al computer a codare così dicono i miei ragazzi quindi a programmare beh io vi dico che oggi io la informatica non faccio nulla di tutto ciò faccio analisi di problemi risolvo come dire do soluzioni ai problemi ma la parte di realizzazione a maggior ragione oggi con la generativa AI è veramente l'ultimo pezzettino di tutto il lavoro che deve essere fatto al fine di produrre nuovi software allora quindi la domanda è se oggi come dire se oggi l'informatica è una scienza che per essere applicata deve avere la multidisciplinarità non capiamo perché ci sia ancora questa visione da nerd di questa materia e ci domandiamo quindi perché c'è questa scarsa presenza femminile che tutte le statistiche ci dicono ok molto spesso cioè dalle statistiche europee comprendiamo anche che non è solo come dire il problema è che c'è poca vicinanza delle ragazze e delle donne verso l'accesso alla tecnologia in termini di utilizzatrici finali ma il problema non è solo questo quando noi parliamo di empowerment delle ragazze e delle donne intendiamo che non di guardare le donne non solo come utilizzatrici ma soprattutto di includere delle donne nel lato di coloro che producono disegnano ideano con creatività i sistemi del futuro perché questo è importante perché la tecnologia ormai è pervasiva l'abbiamo intorno a noi la troviamo ovunque e non ci possiamo più permettere di non essere presenti nella ridefinizione che oggi osserviamo del futuro cioè oggi con la digitalizzazione il trasferimento tecnologico con tutto ciò che in questi 3-4-5 anni ultimi si sta portando avanti non ci possiamo più permettere di non essere partecipi protagoniste della nuova tecnologia perché la useremo e quindi non possiamo di nuovo demandare agli uomini di definirla per noi perché siamo diverse perché abbiamo priorità differenti perché abbiamo le stesse dignità la società di oggi è basata sull'ICT ok ma di fatto è disegnata dagli uomini e non c'è parità cioè nel senso a oggi nelle professioni STEM STEM sta per scienza tecnologia ingegneria e matematica di fatto la presenza delle donne è molto piccola adesso qui vi potrei raccontare tante cose ma l'informatica nasce dalle donne l'informatica non so se avete visto il diritto di contare il film bellissimo in cui le tre donne tre donne portano l'uomo sulla luna bene la prima programmatrice dell'INAC che è il primo super calcolatore dell'IBM erano donne perché questo perché ovviamente non era visto dall'uomo come un'attività redditizia poi si è iniziato a capire che l'informatica prendeva piede e come dire e si imponeva come tecnologia nella società le persone come dire venivano pagati meglio gli esperti e allora a quel punto ci siamo ritrovati di nuovo messe in un angolo abbiamo tantissime come dire role model nel passato che sono che hanno cambiato il mondo ma di cui noi oggi non lo sappiamo ok ne sappiamo veramente poco abbiamo role model di oggi immagino che Cristoforetti la conosciate che è la donna alla vostra alla sinistra poi abbiamo Elena Grifoni Winters che è stata capo del gabinetto dell'ESA dell'European Space Agency e lei è stata lei è un informatico ok e ha gestito ed è stato capo di gabinetto quindi aveva un ruolo fondamentale all'interno dell'agenzia spaziale europea e poi abbiamo una matematica che purtroppo ci ha lasciato presto però lei era veramente brava Miriam adesso il cognome non mi ricordo perché è complicato ok quindi le donne perché non ci siamo nella questa è una domanda che vi lascio perché non si sceglie l'informatica forse perché veniamo presentate male nei film come nerd come quelle strane come le perdenti quindi è anche una presentazione particolare che noi abbiamo sui media nei film ma anche nei giornali ahimè qui abbiamo la distribuzione delle donne nelle varie tematiche solo il 3% scelgono le STEM il 27% scelgono l'economia giurisprudenza l'amministrazione il 14% l'educazione cioè vogliono diventano educatrici il 15% invece tutte quelle professioni sanitarie che vanno dal medico alle professioni sanitarie secondarie quindi abbiamo un'attitudine a come posso dire a studi in cui prendiamo cura di qualcosa ma oggi esiste ancora questa contrapposizione tra un lavoro centrato sull'umano e un lavoro più tecnologico beh la risposta è no perché no perché la tecnologia è pervasiva per studiare fenomeni epidemiologici abbiamo bisogno di dati tanti e non li possiamo più trattare da sole a mano non possiamo fare più applicare modelli statistici a mano abbiamo bisogno della tecnologia abbiamo bisogno dell'informatica per quanto riguarda anche la durante la pandemia abbiamo capito che la tecnologia è fondamentale senza teams senza classroom senza meet avremmo dovuto fermare tutta la parte di apprendimento tutti i trattamenti medici oggi si sta molto sviluppando quella che è chiamata the health cioè la sanità supportata dalla tecnologia con la trasformazione digitale quindi osserviamo una nuova rivoluzione non possiamo esserne assenti è perché questa è pervasiva tocca tutti gli ambiti vado velocemente perché il tempo sta scorrendo veloce vi voglio parlare del clean camp ci sono diverse realtà attività che si stanno portando in campo dal punto di vista accademico verso le scuole per cercare di incentivare le ragazze a entrare nel mondo dell'ICT in generale dell'informatica per quanto mi riguarda perché è una materia veramente molto flestibile applicabile a qualsiasi dominio che permette di applicare anche in ambiti negli ambiti che a noi piacciono di più il pink camp le ragazze contano quindi è un'iniziativa del mio dipartimento quindi ingegneria dell'informazione informatica e matematica e che vuole innanzitutto è pensato per ragazze delle terze e quarte superiori che vuole sviluppare interessi vocazionali personali e acquisire contestualmente il concetto di informatica e tecnologia un concetto corretto e non quello che pervade oggi e che viene da una rappresentazione dell'informatica che non è completamente corretta il pink camp che cos'è è un summer camp cioè un campo estivo intensivo di due settimane che è distinto in prima settimana teorica da remoto seconda settimana in presenza sui laboratori quindi vi facciamo veramente mettere mano a tecnologie che noi insegniamo nei nostri corsi di studio al fine di mostrarvi come si lavora effettivamente nei corsi di studio di ingegneria dell'informazione informatica e matematica il pink camp nasce nel 2018 come prototipo nel 2019 prende la realtà che conosciamo oggi quindi sono già cinque edizioni che abbiamo alle spalle lo abbiamo mantenuto anche durante la pandemia e abbiamo accolto tante ragazze in questa esperienza molto particolare abbiamo disegnato questo campus sulla fattispecie di quelli che noi dell'esame school che i dottorandi vanno a fare all'estero quindi abbiamo detto che è una settimana diciamo di lezioni teoriche plenarie che facciamo da remoto una seconda settimana invece toccaviamo con mano queste foto sono tutte del pink camp sono reali quindi abbiamo trattato i robottini la realtà virtuale i droni i siti web la matematica non euclidea la matematica delle bolle e dall'anno scosto abbiamo iniziato a parlare anche di generative AI per esempio chat GPT oltre a queste materie più specifiche ok delle tre materie del scientifica del campo quello che noi di cui parliamo alle ragazze e cerchiamo di come dire di migliorare sono le soft skill ossia la capacità di essere leader di presentare in pubblico di fare gruppo e così via parliamo del linguaggio di genere cioè perché non dobbiamo dire avvocata sindaca ministra sono parte del nostro linguaggio questo è un retaggio culturale che ci fa credere che non siano termini opportuni parliamo anche di diritti pregiudizi discriminazioni di etica e filosofia cioè quanto è etico che la macchina prenda decisioni per noi per esempio applichiamo quest'anno il prossimo camp applicheremo faremo vedere come la matematica e quindi le tecnologie possono supportare l'arte l'edizione 2024 a breve uscirà il bando lo trovate sia su questo sito se lo monitorate se abbiamo sia facebook la pagina facebook che la pagina instagram pubblicheremo su tutti questi canali il prossimo bando però vi do un'anticipazione quindi quest'anno accoglieremo fino a 45 ragazze 5 posti sono riservati alle vincitrici dell'iniziativa la mia idea di digitale prospettiva femminile di cui parlava il professor Nardelli a cui fa parte questo webinar e 42 posti invece sono riservati al bando di selezione quindi indipendentemente dal vincere o meno questa iniziativa che ve lo auguro ma potete anche partecipare al bando purché siate frequentando in quest'anno scolastico la grasse terza e quarta della scuola superiore le lezioni da remoto quest'anno si avranno dal 17 al 21 giugno mentre i laboratori in presenza dal 24 al 28 giugno e il contesto finale metteremo poi in competizione i gruppi per raccontare ad una giuria di esperti il vostro lavoro al fine di premiare per ogni dominio applicativo il miglior progetto il miglior progetto che voi avete ideato e per cui avrete un Dream Campers avranno il supporto di Tutor i progetti sono su tre tecnologie distinte in tre macroale l'informatica l'ingegneria dell'informazione e la matematica vi lascio qui alcuni recapiti segnateveli se volete venire a fare questa esperienza quindi avete il sito del Pink Camp l'email del Pink Camp e la mia email penso di aver terminato la presentazione sì sono qui per qualsiasi domanda curiosità grazie 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 Antinisca ottima presentazione speriamo appunto che qualche ragazza si sia fatta un po' quindi dell'acquolina in bocca rispetto a una professione digitale del futuro e io volevo sottolineare due cose molto importanti di quello che tu hai detto una è quella dell'automazione perché appunto l'informatica vuol dire rendere automatiche certe attività e il problema è che le attività che l'informatica rende automatiche sono proprio attività di valutazione e quindi se ci sono dei pregiudizi in questo come dire uno viene come il famoso film quello con Tom Hanks in cui lui ripeteva ogni giorno la stessa diciamo la stessa finzione di vita il rischio è che noi abbiamo abbiamo diciamo codificato nella nostra vita certe cose che non vanno bene questa diciamo è una cosa che troppo spesso ci sfugge perché è davvero nuova rispetto a tutta la nostra storia precedente perché noi abbiamo conosciuto solo un'automazione meccanica non questa appunto cognitiva Viviana dice presentata così in informatica è un'altra cosa è vero diciamo il programma il futuro nasce proprio per avvicinare le ragazze da quando sono bambine a questa disciplina perché tu l'hai detto proprio all'inizio la conoscenza l'esposizione alle attività è fondamentale quello che tu non conosci è il diverso è l'ignoto è il nemico oddio non ce la farò mai e quindi mi allontano quindi far conoscere è fondamentale poi c'è questo aspetto appunto della automazione che rischia di ripetere perpetuamente sempre le stesse cose che sono state fatte una volta mentre invece il libero arbitrio insomma ce l'hanno raccontato al liceo è una cosa fondamentale per l'essere umano e poi mi è piaciuto molto insomma il ricordare questi aspetti politici il fatto che quando l'informatica è diventata appetibile dal punto di vista economico se ne sono diciamo se la sono presa gli uomini e purtroppo è sempre così diciamo noi questa è una cosa su cui la scuola è importante il ruolo della scuola è importante come dire che non si fermi soltanto al fatto tecnico che a un certo punto accadono delle cose ma perché accadono quelle cose non è che i fatti umani accadono come diciamo la mela di Newton che cade verso il basso perché c'è la forza dei privilità i fatti umani sono decisi da noi per cui ci sono certe spinte certe motivazioni e se un gruppo diciamo le donne per dire o le ragazze se ne se ne se ne disinteressa poi alla fine diciamo sono sfruttate sono manipolate quindi è fondamentale appunto che ci sia questo interesse e d'altro canto questo deve essere insomma deve nascere da subito dall'esposizione sì dall'esposizione Enrico perché la narrazione di che cosa è l'informatica anche le scuole superiori viene presentata come una cosa gestionale gestisci si perde tutto quell'aspetto di creatività che oggi invece è molto importante i ragazzi allora posso 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 dire una cosa io adesso ho vent'anni di esperienza di insegnamento i ragazzi sono schillati tecnicamente ma la capacità di dare una soluzione a un problema di tipo creativo sono meno portati invece noi siamo molto creative e oggi che stiamo ridisegnando veramente il nostro mondo è importante esserci ma esserci dire la nostra poi l'implementazione quella vera ognuno ha la propria attitudine il proprio talento non è detto che lo debba fare necessariamente una ragazza quindi questo è un primo aspetto l'altro aspetto che voglio dire è che in medicina allora faccio un paragone fondamentale oggi si parla di medicina di genere non so se anzi magari non so magari ecco anche di questo abbiamo parlato in precedenza in cui praticamente tutto ciò le terapie i device sono pensati tutti per gli uomini tutti cioè se io devo mettere un oltere o un un elettrocardiogramma 24 ore ho un problema perché è pensato sul corpo dell'uomo che non ha il seno e questo faccio un altro esempio un esempio che ha sconvolto una scolaresca e i professori però mi permetto di dirla anche qui si è tanto studiato l'ipertensione l'ipertensione è mediamente un problema di uomini la sindrome premestruale non è studiata cioè a noi ci abbatte cinque giorni anche dieci al mese ogni santo mese cioè e quindi adesso una questione politica ok ci dobbiamo imporre sì no no è così è così è così è così davvero per questo e siccome appunto l'hai ricordata anche tu il digitale sta entrando in ogni in ogni disciplina in ogni settore della vita in ogni settore della professione le ragazze se ne devono occupare altrimenti diciamo il digitale si occuperà delle ragazze diciamo di questa componente che è sempre che è sempre più importante quindi è è assolutamente diciamo è un'opera assolutamente meritoria quella insomma che tu stai facendo che voi stai facendo col 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 pin camp noi appunto la stiamo facendo con programma il futuro abbiamo visto anche nelle sperimentazioni che se le prendiamo da piccole le bambine sono altrettanto interessate dei bambini a fare queste cose e poi certamente dici tu il ragazzo è più interessato all'aspetto tecnico di controllo del dispositivo mentre la ragazza è più interessata alla fine allo scopo mentre appunto questo questo per esempio è uno dei motivi per cui diciamo nell'informatica sugli algoritmi puri trovi più uomini a lavorare perché l'algoritmo è una sfida contro diciamo Dio che ha creato l'algoritmo perfetto e tu lo vuoi trovare mentre la donna si occupa del perché o del come facciamo con un sistema informatico a migliorare la salute delle persone dove non c'è un problema algoritmico pure è un problema di soluzioni di problemi reali che occupano la gente reale per questo è importante insomma devo dire poi per tutti perché diciamo spesso la tecnologia progettata dagli uomini anche per gli uomini tende ad essere un po' autistica insomma conosciamo tutti questi siti che come dire fanno le loro cose molto bene ma tu stai là puoi risolvere un problema e non riesci a risolverlo bene c'è Silvia che dice che la storia di chi fa informatica è utile bene siamo qui a raccontarla tutte le volte che è necessario Asia se c'è una cosa che mi ha colpito particolarmente l'aspetto delle donne appassionate e tecnologiche nel film eh sì molto maschili ma le cose stanno cambiando ma anche perché probabilmente sono dipinte da maschi cioè adesso non ho fatto questo studio ma sarebbe interessante capire gli autori gli sceneggiatori di questi diciamo fiction o film in cui ci sono questi personaggi femminili molto eh mascolinizzati sono uomini o sono donne eh sì eh sì però nella realtà mh le donne che fanno informatica diciamo che adesso ci stiamo riprendendo il nostro spazio e mh e anche chi fa dei lavori delle professioni un po' più mascoline eh fino a qualche anno fa evitavamo di eh manifestarci come donne perché altrimenti ci avrebbero escluso velocemente oggi per fortuna siamo un po' più forti un po' la parte diciamo di educazione sta aprendo le nuove generazioni sicuramente all'altro come dire a interagire con le donne con le ragazze però certo non ancora abbiamo molto da da lavorare e io spero che le nostre ragazze qui che sono presenti eh non si lasciano intimidire perché purtroppo a volte abbiamo anche questi aspetti da contrastare di credere in noi stesse perché questo è un aspetto fondamentale non troverai mai un uomo che dice che ha eh un dubbio sulle sue capacità tutte le donne lo dicono anche non solo lo pensano risponderei all'ultima domanda di Vittoria e poi magari un domandone un domandone un domandone allora ci vado ci provo allora data science è una scienza nuova emergente multidisciplinare che mette insieme cioè la data science se noi lo rappresentiamo con i diagrammi di Venn è l'intersezione tra matematica statistica per essere precisi eh statistica se volete la mia opinione giurisprudenza e filosofia l'informatica perché senza l'informatica il dato non lo puoi gestire oggi parliamo di big dati la data science nasce perché ci abbiamo tanti dati e se parliamo di tera tera tantissimi dati non li possiamo il matematico non li sa gestire ha bisogno dell'informatica e poi il dominio applicativo perché la data science è legato il dato è legato ad un dominio quindi abbiamo bisogno che se voglio fare data science cioè studiare un fenomeno medico devo avere il medico se voglio fare studiare un fenomeno economico finanziario ho bisogno dell'esperto di dominio quindi sono due cose leggermente diverse l'informatica è sulla base insieme alla statistica senza statistica informatica non si può parlare di data science non so se ho risposto direi di sì cioè nel senso che appunto sai queste sono un po' sono dispute accademiche non potremmo passare giornate interne a parlare di questo ma hai dato bene la caratterizzazione e ovviamente insomma informatica è sempre è sempre al centro perché l'informatica è l'automazione del trattamento dei dati per cui non la puoi fare insomma la data science diciamo la data science esiste in modo massiccio adesso che c'è l'informatica prima non c'era prima insomma la devi fare tutti a mano e ovviamente entrano in tutte le professioni insomma ormai io devo come dire secondo me tra 20 30 diciamo nel 2050 tutte le professioni saranno digitali diciamo no tutte no forse no ci sono delle professioni che rimangono no penso alle professioni speriamo di sì no sì 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 appunto le professioni di relazione tra persone non possono essere digitali no fatalmente insomma se io ti devo dare un consiglio devo essere una persona non posso essere una sì però possono osservare e possono suggerire questo sì cioè mi immagino in un contesto di una scuola di un apprendimento no il professore la professoressa che sono concentrate a fare quello che devono fare magari non capiscono di dinamiche relazionali all'interno di una classe la tecnologia potrebbe aiutare in questo e accendere come di alzare una bandierina e dire attenzione c'è questa dinamica che bisogna gestire per esempio quindi verrà gestita sempre dall'umano ma l'osservazione dei comportamenti può essere non adesso eh parliamo tra cent'anni no perché è delicato è delicato è molto delicato però certamente come dire potrebbe essere un settore di nuovo un settore in cui va fatta attenzione perché sai se nel sistema digitale che osserva ci sono dei pregiudizi osserverà diciamo ma beh certo tutti i discorsi che abbiamo detto di pregiudizio discriminazione del resto la tecnologia impara ciò che noi gli vogliamo fare imparare certo va bene non so se ci sono altre domande dalle ragazze presenti o dalle insegnanti presenti insomma non so quante di di loro sono 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 docenti o insegnanti e non vedo nessuna che sta scrivendo quindi io a questo punto ringrazierei Antinesca per la bellissima presentazione e invito tutte diciamo tutte tutti quelli che hanno sono stati presenti a diffondere la notizia di questa iniziativa perché appunto fino alla alla scadenza del concorso che è la fine di aprile il 30 aprile diciamo si può partecipare anche se avete mancato a qualche a qualche webinar perché sono registrati e vengono resi disponibili sulla pagina del concorso e diciamo l'iniziativa vale la pena perché insomma il campus Pink Camp a cui si partecipa è davvero molto bello e a questo punto auguri a tutti di buona Pasqua e ci vediamo giovedì prossimo sempre alle 5 con il il terzo webinar ancora di un'altra role model questa volta sarà se ricordo bene una psicologa e poi all'ultimo l'ultimo sarà un uomo diciamo che parlerà di comunicazione ma insomma per essere un pochino bilanciati anche dal punto di vista diciamo degli speaker dei webinar ok allora grazie a tutti e buona serata grazie buona Pasqua ciao grazie a tutti